Ciao, come stai? Tutto bene? Dai, mi fa piacere Quindi, anche quest'anno pronti per organizzare il viaggio? Sì, finalmente è stata arrivata Cioè, in realtà io non me l'aspettavo Cioè, sono proprio del tutto impreparata mentalmente Quindi, sarà un po' complicato, però ce lo faremo E quindi, in realtà io ho già praticamente preparato tutto Perché ne abbiamo già parlato Esatto, il telefono, quindi la proposta ce l'ho Sono qui per mostrartela Esatto, allora Accetto un attimo il computer Quindi Quindi quest'anno Andrai A New York Sì, esatto, con due amici Infatti io ho una prenotazione per tre persone Ok Allora, io ho organizzato, vabbè, la parte dei voli Ah, vedete Sì, esatto, è arrivato già tutto Perfetto Puoi fare il check-in il giorno prima Puoi fare il check-in il giorno prima E scegliere i posti, eccetera, eccetera Adesso parliamo proprio di New York Ok Allora Della sistemazione Cosa vi consiglio di fare Quindi Quindi Casi di una settimana Giusto? Sì Allora Allora Sono appena stata anche io in New York Quindi ho delle informazioni fresche Insomma Non da tale Allora Ti consiglio di fare La MetroCard Che Di questi due tipi qui Sono quali In realtà Che abbia solo Il disegno sopra E In realtà Questi miei artisti li usano perché A New York Puoi fare l'abbonamento Eh Sì Il biglietto A Corsa Il L'abbonamento settimanale L'abbonamento di 30 giorni E In realtà Con questi due abbonamenti Non solo Non solo Puoi usare la MetroCard Che comunque A New York È il mezzo più comodo In città Ma anche Gli autobus Che per alcune zone È consigliato In realtà Lo consiglierei Di un modifico Quindi Per 7 giorni Conviene fare l'abbonamento Appunto Settimanale Che Confronto Comunque A costi Di A mezzi di altre città È davvero economico Per 7 giorni Costa 33 dollari Che sono circa 28 29 Euro All'incirca Quindi per i mezzi È ovviamente Straconsigliata La metropolitana E la cosa E la cosa che volevo Dirti È che La metropolitana New York È enorme Ma Di fare attenzione Perché Capita di sbagliare O Comunque magari Di fare un percorso più lungo Alla differenza Alla differenza Metropolitana C'è Linea normale E linea express Perché ad esempio Della linea A Che usi Per andare Da Brooklyn A Manhattan C'è La versione normale Che va tutte le fermate E la versione express Che salta Alcune fermate Quindi Da un lato È comodo Se puoi andare da una parte All'altra Un po' più velocemente C'è la fermata Con l'express Quindi vai veloce E dall'altra Però bisogna stare attenti Perché se vai sull'express E quel treno La fermata La salta Allora poi bisogna tornare Indietro Un po' un casino Quindi questa è l'unica Accordenza Per il resto Nonostante sia grande Ci si orienta Abbastanza facilmente È molto più complicata La metropolitana Di Tokyo Non solo perché Proprio da comprendere Perché Devi stare attento A non confondere I kanji Da Vabbè Da Cioè Devi trovare la versione scritta In romanci E non in kanji E poi vabbè Non c'entra niente Però è comunque Molto più semplice Per dire E Niente Per quanto riguarda La sistemazione Vi ho trovato Una sistemazione A Brooklyn È un quartiere Che è un quartiere Diciamo Afroamericano E È famoso per quello Però Ed è vicino Adesso Vediamo subito Il quartiere E' la fermata più grande E' la più conosciuta vicino a questo quartiere La Fayette Comunque Ce ne sono altre Molte più Molto più vicine Ah Tra l'altro Dimenticavo La Petrocart E' raro trovare Nelle Petropolitane Cioè Perché molte stazioni Sono piccolissime Quindi Si va tutto Sulla macchinetta Automatica Quindi Ho scelto Brooklyn Come quartiere Non solo perché E' più economico E' più tipico Manhattan E' molto turistica Per quanto sia bella Quindi La passeggiata serale Sul ponte Ma anche durante il giorno È molto bella Ma Vicino C'è anche Un posto bellissimo Poco 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 Frequentato Perché è una zona residenziale Dove Si può vedere Tutta la skyline Di Manhattan Tantissima E' bellissimo Quando ci sono stata Io c'erano praticamente Solo fotografi Quindi era a vuoto Anzi Stavano anche girando Un pio musicale Quindi E' davvero bellissimo Per quanto riguarda Quindi la sistemazione I mezzi Questo è tutto Parliamo proprio Del giro Perché da parte La skyline di Manhattan Ci sono tantissime Tantissime altre cose da fare E comunque Sette giorni Secondo me La maggior parte Delle cose Fattibile Allora Inizierei A parlare Di questo qua Che è New York City Pass Che è Un blocchetto Di biglietti Che si può prenotare online Che io vi ho prenotato Molto conveniente E che permette Di Non solo Di essere Molto più veloci Ad entrare Nei posti Per carina Dovete sapere Perché Ci sono Sempre controlli Per qualsiasi cosa Ci sono i controlli Con il meta pretender Tipo l'aeroporto Quindi Saltarsi Una bella coda Per il biglietto Non è malissimo E poi E' conveniente appunto E L'unica cosa Che bisogna fare La prima volta Per andare in biglietteria E ritirare Il blocchettino Che adesso Poi è comodo Ho trovato Solo un po' Più di rogni E quando Sono andata E l'ho usata Anche io Sono andata A fare La crociera Tra virgolette Per vedere La sovranza Della libertà E d'Alice Island Adesso ne parleremo Allora Questo è molto comodo Quindi Perché Ci sono dentro Sia i biglietti Per i musei Più importanti Più famosi Che per I palazzi Per i panoramici E d'Alice Island Quindi I musei Che sono compresi Sono Il Met Il Metropolitan Museum Che è bellissimo E A me personalmente E' piaciuto molto Del museo di storia naturale Il museo di storia naturale Il museo di storia naturale Che è quello Dove è entrato L'ho girato E' la location Di un altro museo Quello museo Che è compreso Ma E' molto più Tradizionale Mentre Metropolitano Anche con Design interno E la disposizione Delle cose Molto più accattivante Molto più bello E ci sono delle esposizioni Interessanti Come di esempio La storia della musica E' davvero una bella Mi è piaciuto molto Forse Quello che mi è piaciuto Il museo dei musei Poi c'è ovviamente Il MoMA E E Niente Questi sono i musei E Di strutture Molto belle Da vedere Già anche il Chrysler Perché però non è compreso Per quanto riguarda i musei E Sono enormi Sono tutti dei musei Giganti Quindi Quello che potete fare È O Guardarli tutti Ma A perdici poco tempo Quindi scegliere solo una parte Che la mostra E basta Oppure sceglierne un paio E vederseli bene Perché possono anche Vendere più di metà giornata Per vederli tutti Può dipendere gli interessi Io li ho visti tutti Alessamente Li ho girati velocemente Però E' stato bello anche così Per quanto riguarda invece I palazzi C'è Di biglietto Per l'Empire State Building E Il Rockfeller E per il Rockfeller Vediamo se ho ancora il biglietto Adesso me l'abbiamo staccato Si Comunque Per il Rockfeller Quando La giornata in cui Decidete di fare Diciamo il tour del Rockfeller Che tra l'altro c'è anche un pezzettino Che potete fare la via di ascenza Ovviamente Ovviamente La sera potete tornare per fare la stessa cosa Ma notturna Quindi vedere il panorama serale Ed è molto molto bello Comunque Anche l'Empire State Building E Tra l'altro Ovviamente New York è una delle città Che è stata utilizzata per location di film E' vera Cioè Ogni angolo Lo trovate Ma quello Forse l'ho visto in quel film Questo l'ho visto in quel film Però Lo troverai Qualunque cosa Quindi E' favoloso per quello Altre location di film Ovviamente C'è La Caserma dei Pompieri Sempre il Ghostbuster E Manny Black E' ambientato in New York E tantissime clienti Manny Black C'è ad esempio Famosissimo E' bellissimo L'edificio del Guggenheim Che è un museo Però La struttura è bellissima Guarda la faccio vedere E' questa qua E' questa qua E' molto bella E' questa qui E' molto particolare E' molto bella E' molto bella E' molto bella E' molto bella E' l'imparmere E' molto bella adesso anche fa un po' caldo però forza buona, forza di volontà io me lo sono fatta sotto la pioggia è la cinta in bicicletta a Central Park eccola qui, questo è tutto Central Park Central Park è come una città in una città assolutamente cioè ci sono bar, giochi, piste ciclabili, piste per patinaggio piste, c'è davvero di tutto dopo parliamo anche di attraverso la libertà sì, questa è una cosa da mostrarti questo è tutto Central Park e quello che puoi fare per notarci è noleggiare una bicicletta facilissima basta andare, io ad esempio sono andata a questo qua che è Unlimited Biking che si trova sull'incrocio tra la Firth Avenue e la South Avenue praticamente un po' più di qua infatti c'è una prima parte per entrare dentro Central Park in cui si costeggia Central Park sulla Firth e quindi fare tutto il giro a Central Park in bicicletta è bellissimo io l'ho fatto due volte e niente, questo secondo me è molto carino e non dico originale però per visitare Central Park invece di farselo a piedi è davvero davvero bello per quanto cosa che stavo dimenticando di dire anzi cose invece da vedere in generale ma l'orgio, i guardieri eccetera e anche le strutture in cui si possono entrare in cui si può entrare con il CDBAS e allora il il World Trade Center che è dove c'è il dove c'erano le dori gemelle dove adesso c'è il museo e anche tra l'altro una fontana molto inquietante che da me ha lasciato un po' un po' come dire mi mette l'agitazione a vedersi perchè è come un burrone profondissimo comunque il World Trade Center e per andare al World Trade Center si di solito perchè con la metro di solito si smugga a Broadway in realtà la parte più bella da vedere di Broadway è la parte vicino a Times Square Times Square che tra l'altro è un spettacolo molto più grande di quello che è però è bellissimo di sera è uno spettacolo e quindi da Times Square è bellissimo farsi la via dei teatri di Broadway per esempio ci sono tantissime insegne di spettacoli musical principalmente appunto e niente mentre altre cose la Fifth Avenue è un piccolo scorcio di New York che non tutti conoscono ma che a me è piaciuto tantissimo è bellissimo la High Line di New York che è praticamente allora si trova un po' nella periferia di New York ma è bellissimo è praticamente una passerella tra i palazzi che è stata costruita su una vecchia ferrovia infatti ci sono già ogni tanto si vede il vecchio binario perché ve lo faccio vedere ed è bellissimo perché è molto artistico proprio quasi non so come mi spiegare a me è piaciuto tantissimo forse una delle cose che mi piace tantissimo più di New York proprio come città è così sembra un po' la versione più bella di City of Life New Yorkese vediamo un po' se riesco ad aprirle la macchina è veramente poco però per far capire è bellissimo io l'ho fatto sia durante il giorno che la sera con il tramonto è davvero bellissima ed è una delle cose che non è molto conosciuta almeno io non avevo mai sentito parlare ma è davvero 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 bella quindi ultima cosa un po' particolare che consiglio di fare soprattutto perché starete a Brooklyn e a parte girare un po' Brooklyn ma molto spesso di domenica a Brooklyn c'è vabbè questa come dire questo è una cosa di Brooklyn che era sostanzialmente una chiesa che era sostanzialmente è molto protestante ma è bellissimo perché lì molte domeniche si esibisce molto spesso uno dei più importanti core gospel degli USA degli USA ed è bellissimo io ci sono stata e poi è davvero anche un modo di vedere come lì si approcciano com'è la comunità le cose lì che è molto diversa non ci sono tipi oratori io almeno non ne ho mai sentito parlare ma ci sono tutte queste comunità ed è davvero davvero interessante è stato molto bello anche sentire un core gospel al vivo e per quanto riguarda invece ci è appunto crociera per andare a vedere Ellis Island che è praticamente l'isola dove gli immigrati arrivavano con i barconi e ci sono tutti i registri eccetera del museo adesso e poi c'è l'isolato che è la statua della libertà questo qua è il biglietto sono compressi si fa prima la statua poi si passa bene allora come si dice si fa delle silence e si torna indietro e niente più o meno mi sembra di aver dato una con una visione generale di New York spero di non essere dimenticata niente ma sono sicura di si ma lo sai ah si allora altre cose belle da vedere un po' che non sono proprio New York ma fanno parte di New York insomma c'è la Bronx che è un po' più assunti a New York che è il famoso il famoso guardiere malfamato in New York in realtà quello che ho visto io è solo molto caotico molto residenziale un po' così c'è Little Italy in realtà se andate a cercare mentre le guide vi indicherà come Little Italy quella che è di fianco attaccata c'è una town che sono vicinissime e in realtà la vera Little Italy cioè il vero primo guardiere italiano è quello che c'è nel Bronx infatti c'è anche uno spazio di prodotti italiani quindi quello si Bronx come questo mi sembra divertente tutto 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 bene ecco questo è tutto mi avete di mandare tutto per email se hai qualsiasi dubbio curiosità dove si farà scrivermi e buon viaggio allora e buone vacanze ciao ciao